Allora, avevamo concluso la puntata precedente con la promessa che avremmo parlato del temblarismo di Dante. Ora, che Dante fosse un temblare è un qualcosa che gli studiosi hanno accettato di buon grado da parecchio tempo. Si conserva a Vienna una moneta in cui da un lato è rappresentato il profilo di Dante e sul rovescio abbiamo una iscrizione che è stata decifrata da René Guénon e da altri, nel senso che Dante apparteneva, se non proprio all'ordine degli temblari, perché all'epoca di Dante ormai non c'era più, ad un ordine collaterale, ad un ordine che è subentrato dopo che i temblari furono massacrati e furono sterminati nel 1314. Con la Divina Commedia siamo già oltre, Dante muore nel 1321, come è noto, ma ha potuto pure conoscere la storia tragica degli temblari, un ordine che era stato fondato con il beneplacito della Chiesa, con il beneplacito del Papa, che si era reso benemerito nella protezione dei pellegrini che si ricavano a pregare in Terra Santa, aveva ingaggiato delle durissime lotte con i musulmani e ad un certo punto erano diventati i difensori della fede, i soldati della fede, ma hanno avuto il torto poi di essere diventati troppo potenti e all'interno della Chiesa si era sviluppato un movimento che osteggiava i temblari in quanto erano diventati, come abbiamo detto, non solo potenti ma anche molto ricchi e minavano persino l'autorità non tanto del Papa ma dei protettori del Papa. All'epoca il Papa era un protettorato, chi proteggeva di più era il re Filippo il Bello, che insieme al Papa scatenarono una terribile lotta contro i templari che vennero sterminati e l'ultimo loro rappresentante, Jacques de Molay, venne sacrificato nel 1314 a Parigi. Ma ecco, tutto questo che c'entra con Dante? Dante non ha potuto prendere parte a tutti questi avvenimenti, è chiaro. Ma noi dobbiamo partire sempre dalla posizione non antireligiosa di Dante perché sarebbe una contraddizione intermine, ma antichiesastica. Dante era contro quello che un tempo sarà chiamato il potere temporale dei Papi, come è noto. E allora ecco, non vede di buon occhio che la Ecclesia Spiritualis, come ci si esprimeva all'epoca, si fosse trasformata a mano a mano in Ecclesia Carnalis e in questo senso tenta di ritornare allo spirito originario della religione di Cristo, che era quello della spiritualità, desinteressata, era quello della povertà. La grande ammirazione che il poeta dimostra per Francesco di Assisi o anche per Gioacchino da Fiore, sono una spia per arrivare a comprendere come Dante può benissimo avere deciso di appartenere a un terzo ordine degli Templari, che era come un'organizzazione esterna che si ispirava sempre agli Templari, ma ormai senza più l'obbligo della lotta armata, della milizia, come la intendeva Bernardo de Chiaravalle, che come è noto aveva scritto la regola degli Templari ed era poi stata la guida di Dante nel Paradiso. Ovviamente nella Divina Commedia i riferimenti ci sono, ma non possono mai essere in forma esplicita, sono sempre dei riferimenti allegorici, simbolici, se piace esoterici e allora bisogna cercare di individuarli, noi ne possiamo indicare solamente alcune, per esempio potremmo indicare il Veglio di Creta, ci troviamo nel quattordicesimo canto dell'inverno, il Veglio di Creta sembrerebbe essere il simbolo della miseria umana, qui si rifugiò dopo un naufragio, Enea, come è noto, il quale Enea è il simbolo dell'impero senza la croce, e dove poi si fermò anche San Paolo a Creta, sempre, che è il simbolo della croce senza l'impero. Il Veglio di Creta è spaccato in due, per dire che la umanità è ormai divisa, irrimediabilmente, e che solamente una nuova ondata di spiritualità, di afflato religioso potrebbe ricomborla. Ma abbiamo anche il riferimento alla distruzione del Tempio, Dante ovviamente parla del Tempio di Gerusalemme e della sua ricostruzione, ma l'allegoria è molto chiara quando parla di un Nabucodonosor infernale e si riferisce al Tempio che di recente è stato distrutto. E allora, ecco, questo Tempio che di recente è stato distrutto, non può essere altro che l'ordine dei Templari, che il Papa prima ha, diciamo, considerato fuori legge, con una bolla, con un provvedimento amministrativo, e poi ha eliminato con la crociata, appunto, con la crociata, con l'opera di distruzione totale dei Templari, che fa, diciamo così, quasi da elemento di continuità, con la crociata contro gli albigesi, contro i catari, e contro tutti i movimenti ereticali. Poi abbiamo anche l'incontro di Beatrice Condante nel Purgatorio, quando la donna dei suoi sogni viene salutata con l'inno, tratto dal Cantico dei Cantici della Bibbia, Vene Sponsa del Libano, e allora anche qui, ecco, in questa parte della Devena Comedia, siamo nel 33esimo del Purgatorio, Dante cita proprio in latino l'incipit dei versi 78, dei salmi 78 e 79, Deus venerunt gentes et polluerunt templum sacrum tum. Ecco, anche qui questo riferimento al Tempio Sacro è un chiaro riferimento agli Templari, per chi lo vuole, per chi può intendere, in fondo, il linguaggio esoterico. E allora, ecco, diciamo che se Dante può essere l'ultimo degli Templari, si pone un'altra questione. I Templari in seguito, una volta scomparse, cioè lasciarono una eredità tale che venne presa da altri e è continuata fino ai giorni nostri. Questo movimento che riprende la spiritualità e il Templare va sotto il nome di Rosa Croce. Sono dei cavalieri che hanno una tunica bianca con una croce rossa sulla spalla e una rosa al centro. E allora, ecco, la prossima volta dovremo parlare degli elementi di contiguità tra i Rosa Croce e Dante. E anche qui ne scopriremo delle belle.